Compagni e compagni, questo congresso, il congresso che ci apprestiamo a concludere in questi giorni di Chianciano, abbiamo voluto definirlo come il primo congresso di sinistra anticapitalista. Questa definizione potrebbe far pensare ad un percorso che inizia, ma come è noto a tutte e tutti noi, non è affatto così. La nostra storia, le nostre storie, sono lunghe e hanno attraversato molte stagioni, alcune delle quali, come quella evocata dal film che abbiamo appena proiettato, emozionanti e travolgenti. Abbiamo voluto definire questo primo congresso per sottolineare la necessità di mettere a tema nella discussione una necessaria riprogettazione in una fase del tutto nuova di un disegno, quello anticapitalistico, comunista, libertario, rivoluzionario che ha conosciuto nella storia poche vittorie e molte sconfitte, ma che resta per noi l'unica risposta difficilissima ma realistica alle difficoltà dell'oggi. Un'ottantina di anni fa, alla fine degli anni 30 del Novecento, Vittor Serge definì quel periodo la mezzanotte del secolo, alludendo così alla drammatica oscurità che avvolgeva ogni prospettiva di liberazione, ma anche alla speranza, alla certezza possiamo dire, di una nuova alba che si sarebbe delineata all'orizzonte. Noi non ci sentiamo di richiamare qui quella locuzione, perché le sconfitte che si sono accumulate su di noi ci sembrano, perlomeno ancora, senza paragone con quelle della prima metà del secolo scorso, ma anche perché, e di questo occorre essere consapevoli, la speranza di una nuova alba è forse ancora più difficile da immaginare di quanto lo fosse allora. Resta che nodo centrale del nostro congresso è stato quello di fare un bagno di verità. Qualche compagno nei congressi provinciali e nel dibattito ci ha fatto notare come l'analisi impietosa della situazione che attraversiamo e che costituisce parte rilevante del documento e di tutto il nostro materiale congressuale potrebbe avere un effetto ulteriormente depressivo sulla volontà militante, già messa alla prova da una situazione estremamente difficile. Ma il punto è proprio qui. Lo spirito militante in quest'epoca non può basarsi su narrazioni, come si dice oggi, che attenuino la pesantezza degli arretramenti, sia sul piano strutturale, quello delle conquiste cancellate, dei diritti infranti, del pesante peggioramento delle condizioni di vita, sia sul piano della coscienza sociale, sempre più circoscritta a poche, isolate e avanguardie e segnata dalla perdita di ogni identità collettiva, sia sul piano della politica, dove la posta in gioco sembra ormai ridotta all'alternanza tra uguali. Noi riteniamo al contrario che lo spirito militante che chiediamo a noi stessi, che chiediamo ai nostri militanti, debba basarsi sulla più piena consapevolezza della dimensione di quanto è accaduto e di quanto sta accadendo in questi anni e oggi, sulla profondità della sconfitta, sulla difficoltà di ritrovare la via. Assistiamo ormai da anni a una coazione a ripetere che potrebbe sembrare assurda. sul piano economico le classi dirigenti, nonostante i pessimi risultati sociali delle politiche monetaristiche e liberiste, continuano imperterrite ad applicare le stesse ricette, se possibile perfino ad appesantirle ancora di più. Sul piano militare, nonostante che la politica della guerra permanente inaugurata 25 anni fa con la prima guerra del golfo abbia solo risuscitato un terrorismo fanatico e retrogrado e sia completamente fallita nella sua pretesa di esportare la democrazia, le borghesia imperialiste si accaniscono sempre di più nell'azione bellica. Sul piano delle libertà, nonostante la caduta verticale della partecipazione politica, pesantissima in Italia, ma non solo in Italia, si approfondisce la risposta autoritaria e antidemocratica. I clamorosi e ripetuti fallimenti di queste politiche inducono parti significative della sinistra a sperare che qualche settore delle classi dominanti cominci a interrogarsi sulla loro validità, sulla possibilità di imboccare strade diverse, sulla necessità di rispolverare politiche espansive e di compromesso sociale. Noi pensiamo, e questo è un altro nodo del nostro congresso, che questa speranza sia totalmente infondata e costituisca questa sì un'illusione preludio di pesanti disincanti. Le classi dominanti insistono nelle politiche che noi riteniamo fallimentari, per il semplice motivo che loro non le considerano affatto fallimentari. Sul piano economico le ricchezze si sono concentrate in maniera inedita, le diseguaglianze economiche sono cresciute esponenzialmente raggiungendo livelli mai toccati nella storia umana. Sul piano militare il commercio di armi sempre più potenti, più sofisticate, più costose è diventato più che mai un fattore cruciale del mercato. Ogni politica di utilizzo delle risorse per sanare le aberranti ingiustizie planetarie, create dall'Occidente nei secoli, costituirebbe per loro un improduttivo dispendio di risorse. E poi gli squilibri geopolitici che si sono creati negli ultimi decenni spingono tutte le grandi potenze ad incrementare il proprio impegno militare, se non altro come risorsa estrema a tutela dei propri interessi. E sul piano democratico solo degli inguaribili ottimisti possono ritenere che la borghesia del tardo capitalismo possa essere interessata a mantenere i livelli di partecipazione popolare alla politica propri di un'altra epoca. Pensare che nel ventunesimo secolo possano esistere settori significativi delle classi dominanti interessati a svolgere un ruolo seppur minimo di sviluppo sociale e democratico, interessati alla difesa della pace e della cooperazione tra i popoli, significa non aver capito la vera natura del capitalismo, né la tragica miopia di una classe, quella borghese, storicamente e unicamente interessata alla difesa del proprio tornaconto. D'altra parte, la cecità e il disinteresse della borghesia rispetto al futuro del mondo appare lampante considerando il brutale sfruttamento dell'ambiente perpetrato all'insegna della primazia del massimo profitto. La devastazione di vaste aree del mondo, il surriscaldamento del pianeta, il massiccio uso di agenti pesantemente inquinanti nell'agrobusiness e nell'industria manifatturiera, il diffondersi delle manipolazioni genetiche, la cocciuta ricerca dell'alternativa nucleare dimostrano l'incompatibilità del capitalismo e delle sue logiche con la sopravvivenza della specie e del pianeta, incompatibilità con la sopravvivenza in prospettiva, ma già oggi incompatibilità con ogni idea di giustizia sociale e di democrazia. in particolare le classi dominanti in tutti i paesi si sono concentrate nella distruzione sistematica delle conquiste del mondo del lavoro, di tutte quelle misure costituzionali, legislative, giuridiche, sindacali poste a tutela degli interessi minimi di chi deve vendere la propria forza fisica per poter sopravvivere. Qui in Italia, dove forse le conquiste erano state più significative e più concentrate nel tempo, l'attacco è stato particolarmente violento. Gli ultimi tre governi, ma sul terreno arato in decenni di logoramento, sono riusciti a dare un colpo decisivo alla scuola pubblica, allo statuto dei lavoratori, al sistema previdenziale, al valore del contratto nazionale e si apprestano ad assestarne altri, altrettanto brutali, al diritto di sciopero, alla sanità pubblica. Il governo Monti e il governo Renzi, certo, hanno avuto una funzione cruciale in quest'opera demolitiva e chi è affezionato all'idea di centrosinistra indica come questi governi siano governi lontani dalle idee del centrosinistra. Ma non si deve dimenticare come queste misure siano tutte state preparate da governi e ministri di centrosinistra DOC o da accordi sindacali interconfederali. La lunga storia della demolizione del sistema previdenziale si è inaugurata con l'accordo confederale del 1995 con il governo Dini sul nuovo sistema contributivo e sull'apertura del mercato delle pensioni integrative. Protagonista di quell'accordo fu Sergio Cofferati, oggi diventato icona vivente della sinistra italiana. Il percorso di privatizzazione della scuola pubblica iniziò quando era ministro Berlinguer, altro cognome che richiama un'altra ancora più sacra icona della sinistra. Il primo colpo all'articolo 18 è stato inferto nel 2012 sulla base dell'emendamento predisposto da Cesare Damiano, esponente di punta della sinistra DPD. Quanto al diritto di sciopero non si può non ricordare l'accordo sindacale del 1990 che ha aperto la strada alla legge 146 e che ha istituito la famigerata commissione di garanzia, oggi protagonista di gravissime ripetute dichiarazioni contro i lavoratori. E se la sanità pubblica conquistata nel 1978 può oggi essere così facilmente colpita e ridimensionata è grazie ai processi di aziendalizzazione avviati nel 1999 con il decreto Bindi, altro nome Calt del centro-sinistra. Così come la chiamata numerica che garantiva ai disoccupati una sufficiente oggettività nella ricerca del posto di lavoro sia stata cancellata da una riforma del governo D'Alema, un altro personaggio magari molto meno amato ma che comunque pretende anche lui di dettare ricette per una sinistra all'altezza del ventunesimo secolo. Un altro nodo che abbiamo voluto evidenziare nel congresso è il fatto che quello che abbiamo di fronte non è una versione abberrante del capitalismo, un impazzimento di un sistema ingiusto ma comunque dotato di una certa razionalità autocorrettiva. I Chicago Boys che negli anni 70 del secolo scorso hanno elaborato le proposte poi definite neoliberali che ne hanno sostenuto la sperimentazione nel Cile di Pinochet e che poi attraverso Margaret Thatcher e Ronald Reagan le hanno fatte diventare pratica di gestione del sistema a livello planetario non hanno inventato niente. Hanno solo sostenuto, purtroppo con un devastante successo, che la crisi ormai evidente del modello burocratico dei paesi collettivistici e il progressivo indebolimento del movimento operaio dei principali paesi occidentali rendevano possibile il sogno del capitale, quello di tentare di chiudere definitivamente la parentesi del compromesso sociale, parentesi inaugurata tra le due guerre per evitare la rivoluzione e che in qualche modo venne istituzionalizzata, in particolare in Europa, nel secondo dopoguerra e nei decenni seguenti. Dunque, quello che si sta imponendo in Italia e in tutto il mondo non è una degenerazione del capitalismo, ma piuttosto il capitalismo tout court, il capitalismo liberato dai lacci e lacciuoli impostigli per decenni da un movimento operaio forte e da faticosi equilibri geostrategici. Le vittorie del capitalismo non significano che non esistano più contraddizioni pesanti nella sua politica. Peraltro, un po' dovunque in Europa, il consenso popolare verso le scelte neoliberali tende pesantemente a scemare. Purtroppo, però, nel contesto di grave involuzione dei livelli di coscienza che abbiamo voluto descrivere con puntiglio nel documento congressuale, gran parte del disagio non si coagula socialmente, ma anzi si esprime nella crescita delle pulsioni egoistiche, nazionaliste, con un senso di appartenenza sociale che declina e che si trasforma in ripiegamento identitario, visto come antidoto ai poteri europei ritenuti transnazionali. E sul piano politico il disagio si riversa nella crescita del consenso alle formazioni di destra, scioviniste e molto spesso anche razziste e fasciste. In alcuni paesi europei, in particolare nell'ex blocco dell'Est, queste formazioni sono cresciute fino a conquistare il governo o si apprestano a farlo. Nella migliore delle ipotesi, le pulsioni di un generico rifiuto dei diktat comunitari non supportate da adeguate mobilitazioni sociali, si coagulano nella crescita di formazioni populiste o qualunquiste, che incanalano il malcontento verso bersagli fasulli come l'euro o la casta, o peggio ancora contro i migranti, ma che in fin dei conti rischiano di spianare la strada alla destra più genuina. Solo in alcuni paesi, soprattutto in quelli che hanno avuto esperienza di mobilitazioni sociali recenti o ancora in corso, il rifiuto delle politiche antipopolari si traduce nella costruzione di ipotesi caratterizzate a sinistra, come è avvenuto in Grecia, come sta avvenendo in Spagna e in Portogallo. Non voglio qui entrare nel merito specifico delle vicende di questi singoli paesi, delle interlocuzioni in corso tra le formazioni della sinistra radicale e i partiti tradizionali, in particolare quelli socialisti. Su alcuni nodi della situazione internazionale, peraltro, interverrà più ampiamente il compagno Gippo, che arriva, come ha detto Franco prima, nel pomeriggio. E' certo però che, seppure nel modo frammentario e spurio necessariamente indotto dalle sconfitte accumulatesi, l'esperienza di questi paesi indica come tante potenzialità di lotta siano tuttora presenti. D'altra parte, anche in Italia, il successo dello sciopero generale del dicembre 2014, le mobilitazioni isolate ma importanti delle aziende in crisi, alcune delle quali sono in corso anche in queste settimane, la primavera degli insegnanti, le lotte contro le trivellazioni o contro il MUOS, la tenuta del movimento Notav e tante altre esperienze che non voglio continuare a denumerare, nelle quali a volte siamo anche impegnati in prima persona con i nostri compagni o compagni, stanno a dimostrare l'esistenza di disponibilità sociali importanti per una lotta che faccia fronte all'offensiva padronale. Ma qui occorre denunciare la irresponsabile scelta delle direzioni confederali di non voler mai andare oltre l'iniziativa testimoniale, utile a reggere sul piano della loro tenuta organizzativa, ma inutile sul piano sostanziale della difesa degli interessi veri della classe lavoratrice. E' qui un ulteriore punto cruciale della nostra analisi e della nostra linea politica. La responsabilità di quanto sta avvenendo ai diritti, alle conquiste, non può solo essere ascritta alla perfidia del governo Renzi e del suo partito. Abbiamo già detto delle responsabilità che hanno anche quei frammenti della cosiddetta sinistra moderata che pure si sono differenziati da Renzi e dalla sua cricca di potere, alcuni dei quali oggi cercano di presentarsi come paladini dei diritti sociali e punto di riferimento per la ricostruzione di una sinistra. Ma c'è un'altra responsabilità che non si può rimuovere, che pesa come un macigno sulle spalle delle direzioni sindacali maggioritarie. E' il bilancio fallimentare di chi ha lasciato schiacciare conquiste fondamentali del mondo del lavoro e della società. E ricordiamo il bilancio fallimentare delle direzioni confederali, non per fare un escursus sindacale improprio in un dibattito che vuole essere politico come quello del nostro congresso. No, lo ricordiamo questo bilancio perché ha una forte valenza anche politica, perché è uno dei tratti caratterizzanti della sinistra che occorrerebbe e occorre costruire per tentare di ridare un ruolo protagonista alla classe lavoratrice e alle sue lotte. Per questo uno dei punti più deboli dei balbettii di una nuova sinistra nel nostro Paese sta proprio nel rapporto tra queste prove di nuova sinistra e la linea dei sindacati maggioritari, naturalmente della CGL in primo luogo. Oggi non può esistere una vera sinistra che non sia anche drasticamente critica nei confronti della linea rinunciataria degli apparati confederali, che non si impegni con coraggio per cambiarla radicalmente con la battaglia interna o con la critica esterna, che non costruisca lotte indipendentemente e contro le scelte dei gruppi burocratici che dirigono le organizzazioni sindacali confederali. Sì, indipendentemente e contro. Come non denunciare duramente, ad esempio, quanto è accaduto pochi giorni fa a Padova, quando si è costituita una santa alleanza contro le mobilitazioni selvagge, quelle che venivano ovviamente definite da loro mobilitazioni selvagge, una santa alleanza composta da CGL, CISL, UIL, Regione Veneto, Provincia e dalle principali società della logistica di quel territorio. O come non indicare lo scandalo di una manifestazione dei lavoratori della Bormioli organizzata dalla CGL di Fidenza contro i facchini della cooperativa a cui è appaltata la logistica di quell'azienda. Si tratta qui della stessa CGL che per imbiancare il proprio sepolcro e per cercare di mantenere una qualche differenziazione di identità dalla CISL, proprio in questi giorni organizza una raccolta firme sulla proposta di nuovi diritti del mondo del lavoro. Con quale coerenza? Ci domandiamo e domandiamo alla CGL. E occorre dire, con che faccia? E anche sul fronte dei metallmeccanici la situazione non è più rosea. La stagione nella quale la FIOM ha svolto un fondamentale ruolo di coagulazione della protesta sociale fino ad arrivare alle giornate di Pomigliano e di Mirafiori del 2010-2011 è una stagione largamente tramontata. Allora una vera coalizione sociale si stava costruendo attorno alla FIOM, alla sua storia, alle sue lotte dell'oggi, inaugurate con la partecipazione della FIOM alle manifestazioni del luglio 2001 di Genova. La coalizione sociale che oggi si persegue invece è una delle tante aggregazioni di ceto politico, politico-partitico, politico-sindacale o politico di movimento, come si suol dire, del tutto ininfluente sul piano delle lotte e del conflitto. E anche qui, come non ricordare, come abbiamo voluto riportare anche sul nostro sito, la vergognosa presa di distanze che il gruppo dirigente della FIOM ha manifestato rispetto alla coraggiosa lotta indetta dalle sue stesse RSA negli stabilimenti meridionali della FCA contro i sabati e le domeniche obbligatorie imposte da Marchionne. Dobbiamo dirlo francamente a tutte quelle formazioni della sinistra e in primo luogo alle compagni e ai compagni di rifondazione, a tutti quei compagni che giustamente, e occorre dirlo finalmente, meglio tardi che mai, vedono come impraticabili ogni ipotesi di alleanza con il PD. Ma che cosa pensano di coltivare? Come pensano di coltivare una relazione di collateralismo invece con la CGL e con la FIOM, magari sperando in qualche positiva ricaduta elettorale. Invece per noi la nuova coscienza di classe che occorre ricostruire non può prescindere da una severa e impietosa critica della linea politica e sindacale degli apparati confederali e oggi anche della FIOM. la costruzione di ogni valida alternativa politica alla crisi della sinistra non può prescindere da una battaglia parallela anche sul piano sociale per la creazione di uno schieramento di convergenza e sul piano più strettamente sindacale per un'azione unitaria e di classe alternativa alle burocrazie. Sembra una sottolineatura pedante di fronte alla dimensione schiacciante del vuoto politico a sinistra nell'attuale panorama partitico. Ma per noi, e abbiamo da dire questa cosa con una certa presunzione, obiettivamente pensare di poter colmare il vuoto politico senza porsi contemporaneamente il compito di ricostruire le mobilitazioni rappresenta nel modo più plastico proprio quell'elettoralismo e quell'istituzionalismo che ha già fatto molti danni alla sinistra italiana. E vogliamo dire che ciò che c'è da ricostruire non sono solo le lotte, ciò che manca drammaticamente nel nostro paese è un barlume anche minimo di soggettività politica della classe. Il problema politico non è quello di dare una rappresentanza istituzionale ai lavoratori, come qualcuno dice, lavoratori che non hanno più rappresentanza politica istituzionale da troppi anni. Una presenza istituzionale senza lotte nella società. A che serve? Peraltro la situazione estremamente negativa è tutt'altro che statica. Basta dare uno sguardo a quanto sta avvenendo in economia per capire che nuovi sussulti si preparano, che nuovi sussulti che, se non adeguatamente affrontati, faranno cadere altre piogge di pietre sulle lavoratrici e sui lavoratori e sul complesso delle classi popolari. La crisi che si sta delineando in Cina e in altri paesi esportatori e paesi però che nel recente passato sono diventati anche un fondamentale mercato per il commercio internazionale. I conflitti tra le monete, l'andamento del prezzo del petrolio che mette in difficoltà gli Stati Uniti ma anche alcune economie che costituiscono fondamentali sbocchi di mercato per l'economia mondiale. La precarietà del settore bancario, solo per citare alcuni dei fattori che fanno prevedere gravi l'instabilità dell'economia mondiale. Questi sono gli elementi su cui occorre ulteriormente riflettere. In particolare per l'Italia le insistenti rassicurazioni sulla tenuta del sistema bancario generano ancora più allarme per chi sa come l'accumulo di quelle che vengono definite sofferenze, ma che in realtà sono speculazioni sulle sofferenze popolari, abbia raggiunto livelli difficilmente risolvibili con i sistemi usuali delle banche. E questo viene a collocarsi in un mondo e soprattutto in un'Italia che ha tutt'altro che superato la crisi del 2007-2008. Quindi è possibile una nuova crisi, ma che non si collocherà dopo un seppur breve periodo di ripresa, ma una nuova crisi che può sommarsi a quella precedente ancora non conclusa, con devastanti effetti sulla struttura economica e dunque sull'assetto sociale. In una congiuntura così, con un tessuto sociale così logorato, in un'assenza di una sinistra politica e sindacale degna di questo nome, tutto ciò rischia solo di rendere ancor più difficile tutto. Un altro soggetto, un'altra realtà sulla quale si è molto discusso è l'Unione Europea durante il nostro congresso. Oggi la natura dell'Unione Europea, già ampiamente evidente nelle sue politiche sociali interne, si rivela ancor più palesemente di fronte all'emergenza profughi. Sono comparsi in questi mesi lugubri riedizioni di muri o di barriere spinate. Dopo aver devastato il Medio Oriente con la propria politica guerrafondaia e neocoloniale, oggi i Paesi dell'Unione si palleggiano le quote di profughi da accogliere, rispolverando perfino, ironia della storia nel giorno della memoria sulle deportazioni naziste, rispolverando perfino il sequestro degli averi di chi chiede asilo, i pochi soldi racimolati e trascinati con sé in migliaia di chilometri di peregrinazioni. La polemica di questi giorni sulla sospensione del trattato di Schengen è totalmente fuorviante. La crisi dell'accordo sulla cosiddetta libera circolazione indica solo la profondità della crisi dell'Unione. Il problema che occorrerebbe affrontare è quello delle frontiere esterne della UE, frontiere che ancora oggi e sempre più per chi scappa dalla guerra, fame e oppressione possono essere attraversate solo affidandosi alle mafie dei trafficanti e mettendo a repentaglio la propria vita. Per questo il logo del nostro primo congresso richiama il cuneo rosso di Lizzischi che in questo caso non è chiamato a spezzare le armate bianche come nell'edizione tradizionale le armate bianche dei controrivoluzionari ma il filo stellato e spinato della fortezza dell'Unione Europea. E' questo per noi un motivo in più per affermare nel nostro documento congressuale l'Unione Europea deve essere considerata, cito dal documento congressuale, alla stregua degli stati nazionali, uno strumento della classe dominante e dunque da abbattere, non riformabile. Questo però non ci fa iscrivere al variegato partito degli euroscettici. Il desiderio di tornare alle frontiere nazionali è per noi una visione nostalgica e dunque potenzialmente reazionaria, tanto più nel momento in cui, qualche volta anche non solo potenzialmente ma tucurre azionario, tanto più nel momento in cui gli straordinari movimenti migratori che conosciamo e di cui ho appena fatto menzione, mettono in discussione con i corpi che premono sui fili spinati proprio quelle frontiere. E non si tratta solo di immigrazione, in questi mesi si sono consolidate di nuovo le pulsioni bellicistiche delle classi dominanti europee e ovviamente non solo europee. Nonostante tutti i fallimenti delle recenti campagne militari che ho ricordato all'inizio, soprattutto nel Medio Oriente, si è aperta una nuova fase di alimento reciproco tra il fondamentalismo reazionario e l'interventismo imperialista o neoimperiale. Questa nuova tendenza alla guerra coglie del tutto impreparate le sinistre europee, divise tra chi si allinea con le scelte belliciste della propria borghesia, rinscenando per l'ennesima volta un ennesimo 4 agosto 1914 e chi si industria a cercare campi con i quali schierarsi. Oltre questo recinto sembra ci sia solo posto per balbetti impotenti. È il frutto della sconfitta silenziosa che ha segnato, giusto dieci anni fa, lo straordinario movimento per la pace dei primi anni 2000, quando quel movimento, o meglio le direzioni di quel movimento, volero riporre le proprie aspirazioni radicalmente senza sé e senza ma e affidare il tutto alle promesse di pace del governo Prodi. Il clima bellico pesa anche sulla situazione interna, con la pesante e diffusa presenza di mezzi militari in ogni punto ritenuto sensibile. Una presenza che rassicura l'opinione pubblica e che punta a far ritenere utili e indispensabili gli apparati e spese militari che hanno il solo effetto di sottrarre ulteriori risorse alla spesa sociale. Senza dimenticare il caso della Francia, ma che non sarà solo della Francia, in cui gli avvenimenti di novembre hanno offerto alle classi dominanti e al governo Hollande-Walls un pretesto d'oro per imprimere una gravissima torsione autoritaria ad uno dei paesi chiave del continente. Torsione autoritaria che ha trovato il sostegno sostanzialmente di tutto lo schieramento politico-istituzionale transalpino. Abbiamo voluto fin qui sottolineare alcuni dei tratti rilevanti della situazione storica in cui si colloca il nostro congresso. Le involuzioni della sinistra nel nostro paese, l'ulteriore smottamento verso il riformismo e il moderatismo che si è prodotto in questi ultimi anni, il risveglio del togliattismo e dello stesso stalinismo, incautamente ritenuti antidoti al moderatismo, il neocampismo di chi ricerca più che mai disperatamente un paese modello, un campo amico, la fuga nelle isole presuntamente liberate dell'attivismo sociale. Sono tutti fenomeni che accentuano il nostro isolamento, che fanno apparire sempre più controcorrente le nostre opzioni generali. Però noi pensiamo, al contrario, che questo isolamento l'ulteriore involuzione della sinistra che si sta producendo in questo periodo rende ancora più necessaria, più determinante la nostra organizzazione anticapitalista e rivoluzionaria per dare a chi svolge utilmente un'attività sociale un quadro di riferimento strategico e programmatico, per avere uno strumento politico che favorisca la costruzione delle lotte e dei movimenti. Uno strumento che consenta di non affrontare politicamente impreparati le nuove lotte che potrebbero prodursi in una nuova situazione. Abbiamo detto e ribadiamo, l'asse centrale della nostra azione è la ricerca della massima unità sul piano sociale e su quello politico. Ecco perché riteniamo importante e utile la rete antiliberista e anticapitalista che con altre compagne e altri compagni abbiamo iniziato a costruire in questi mesi. È uno strumento prezioso che può aiutare a non far sentire soli, che può aiutare ad aggregare, seppure su un terreno iniziale, tutte e tutti coloro che non si sentono rappresentati dalle principali opzioni in campo. Né da quella neoriformista, ampiamente compromessa dalla sua storia di accordi e cedimenti nei confronti del social liberismo, né da quella neocampista, invischiata con ingombranti e spesso impresentabili amici, né da quella movimentista, presuntamente a politica ma troppo spesso subalterna a gruppi dirigenti compromessi come la FIOM. La rete anticapitalista è uno strumento che intendiamo far vivere e sviluppare per frenare lo scivolamento a destra, per smarcarsi collettivamente e non in modo settario dal moderatismo evidenziatosi nel dibattito sulle vicende greche. Ne vediamo i limiti di questa rete anticapitalista, ma intendiamo agire assieme agli altri interlocutori per ridurli e superarli. Però la nostra ispirazione unitaria non può farci trascurare il fatto che oggi non esiste nessuna possibilità di convergenza programmatica né di ricomposizione organizzativa. Al peso schiacciante del fallimento dell'esperienza ricompositiva di rifondazione comunista si è aggiunta in questi ultimi mesi il macigno prodotto dalla vicenda di un'altra esperienza ricompositiva come quella di Siriza. A due anni dall'assemblea fondativa che dopo la conclusione dell'esperienza di sinistra critica ha decretato la sopravvivenza nel nostro paese, leggo in questo caso dalla mozione conclusiva dell'assemblea tenuta a Chianciano, non in questo albergo, nel settembre 2013, quella conferenza, quell'assemblea ha decretato la sopravvivenza nel nostro paese, cito, di un'organizzazione politica comunista, femminista, ecologista, internazionalista che lavorerà per promuovere le lotte contro ogni forma di sfruttamento, di oppressione, di dominazione sulle persone e sulla natura. Noi dunque riteniamo centrale che questo primo congresso debba concentrare i propri sforzi anche su un tema troppo trascurato nei 16 anni della nostra vita e della nostra battaglia e rifondazione comunista, ma anche nella breve vita autonoma di sinistra critica e cioè concentrare i nostri sforzi sulla complessità della costruzione di un'organizzazione indipendente, soprattutto quando l'organizzazione da costruire è fragile, con risorse economiche e organizzative minuscole e quando si muove nel contesto maledettamente negativo che abbiamo cercato di descrivere e sul quale abbiamo discusso durante tutto il nostro congresso. E' questo il motivo per il quale abbiamo dato rilievo nel congresso, forse inusualmente, anche a un documento organizzativo che riteniamo tutt'altro che accessorio, rispetto alla nostra proposta politica. Il nostro dibattito congressuale è stato contrassegnato da un diffuso accordo con il documento politico, predisposto dal coordinamento nazionale uscente. I contributi, le stesse proposte di emendamento non hanno rivelato dissensi politici rilevanti. Il dibattito nei congressi provinciali o regionali è stato ricco e proficuo. Se un'insufficienza nel dibattito congressuale c'è stata, è stata forse quella di un'attenzione ancora insufficiente rispetto al documento organizzativo, di una sorta di pudore di affrontare con lo spessore di una discussione congressuale tematiche ingiustamente ritenute secondarie di fronte alla politica politica. No, discutere delle difficoltà che si incontrano quando si cerca di convincere un giovane, una giovane all'utilità della militanza o quando si cerca di incitare un compagno deluso da tante esperienze a riprendere a militare è una discussione pienamente politica. Così come analizzare quale sia la concreta struttura organizzativa più efficace per affrontare una fase così drammaticamente difficile è fare anche qui analisi politica. Quando si discute di come sostenere finanziariamente, con quali strumenti di comunicazione, con quali campagne politiche, la nostra azione è fare una discussione politica, senza la quale la politica politica si riduce a pura riflessione teorica. Questa è la discussione che abbiamo cercato di suscitare con il documento organizzativo. Una discussione che verrà sviluppata tra l'altro nella riunione specifica sull'organizzazione che si terrà nel pomeriggio di oggi. E quella riunione discuterà tra l'altro anche intorno a una proposta di, seppur contenuto, ma importante allargamento delle nostre strutture di direzione. Un'altra discussione che vogliamo avviare con questo congresso è quella sulla rimessa a punto di un nostro profilo programmatico. Non a caso oggi nel pomeriggio, parallelamente a quella sull'organizzazione, si riunirà a una commissione, un workshop, come forse occorrerebbe dire, sul programma. Il compito è ambizioso. Le elaborazioni più recenti sul chi siamo e che cosa vogliamo sono state fatte nel 2007, al momento della separazione di sinistra critica dal PRC. Riteniamo che quelle elaborazioni, che comunque rivendichiamo in pieno, siano però ormai largamente datate. In essa si evidenzia una fase ancora fortemente segnata da quello che fu il grande movimento alter mondialista e dalla speranza e dall'ancor più infondata speranza di poter dare continuità in qualche modo al sogno ricompositivo di rifondazione fuori rifondazione. Vogliamo un programma nel quale la dimensione ecosocialista e tutte le altre dimensioni che pure richiamiamo nella nostra bandiera acquistino lo spessore di veri e propri elementi costitutivi e non solo identitari della nostra linea e della nostra azione politica. Vorremmo che il lavoro di definizione programmatica che oggi avviamo continui nei prossimi mesi e punti a far svolgere il nostro tradizionale seminario di settembre nella forma di una conferenza programmatica. Sono questi dunque i motivi principali per i quali sull'onda del dibattito che ha investito la sinistra europea sul terzo memorandum imposto alla Grecia nel luglio scorso abbiamo intitolato il nostro documento politico anticapitalismo il nostro piano A. Infatti in quel frangente si ipotizzò che il governo di sinistra greco fosse stato indebolito nella sua trattativa con i governanti degli altri paesi dell'eurozona da non avere a disposizione un piano B. La nostra valutazione fu più secca. Il problema non era l'esistenza o meno di un piano B, né quale ne fosse la sostanza, ma piuttosto la natura fallimentare del suo piano A, cioè l'illusione di poter trovare all'interno del gota dei poteri forti europei orecchi attente ai bisogni sociali del popolo greco. Illusione che qualcuno nella Commissione europea ritenesse la giustizia sociale prioritaria rispetto alla rapina di classe. Ed è finita come è finita, con un governo Tsipras II che non è che l'ombra di quello che tante speranze, ma anche troppe illusioni, aveva acceso nella sinistra di tutta l'Europa. Perciò, e per sostenere le compagnie e i compagni spagnoli nella loro difficile ma fondamentale battaglia dentro Podemos, sosteniamo e propagandiamo e parteciperemo all'appuntamento di Madrid del 19, 20 e 21 febbraio, un piano B per l'Europa, che vuole costruire una convergenza europea contro l'austerità e per la democrazia. La vicenda greca, tra tutti i suoi insegnamenti, ha anche quello di spingerci a riflettere di nuovo sul ragionamento ampiamente circolato in questi anni. Si è più volte detto che gli arretramenti e le sconfitte, il carattere necessariamente difensivo della lotta ricollocava il discrimine politico e che era divenuto possibile costruire partiti, come era appunto Siriza, che unissero gli anticapitalisti e i rivoluzionari con i riformisti coerenti e intransigenti. A questo proposito ci sentiamo di condividere a pieno ciò che scrive il compagno Antony Tavanellos, il dirigente di DEA, la sinistra operaia internazionalista greca, e qui cito il compagno. Il dilemma strategico, riforme o rivoluzione non è chiuso. Un dilemma che non concerne solo un passato storico o un futuro distante e lontanissimo. Questa problematica definisce di fatto largamente anche la tattica di ogni giorno, anche nei periodi in cui c'è necessità di riforme. Questa problematica è un discrimine ancora più decisivo nel corso dei periodi di sconvolgimenti politici generalizzati. Non si tratta di affermazioni autoproclamatorie né di dichiarazioni di autosufficienza. Ma è per questo che DEA non ha mai accettato le pressioni di Tsipras e perfino di altri settori radicali di Siriza di sciogliersi. è per questo che vogliamo sempre più costruire sinistra anticapitalista.